salve a tutti signori io sono lorenzo e questo mio canale espertone benvenuti bene oggi voglio parlarvi qualcosa di particolare che sto riscontrando in questi giorni che sempre più clienti vengono a chiedermi e che cos'è praticamente noi vediamo sul nostro smartphone che c'è segnale per quanto riguarda il nostro gestore quindi per le chiamate ma non funziona internet quindi come vi faccio vedere adesso io non so provo andare in qualsiasi opzione che di navigare per dire espertone cerchiamo espertone faccio ok cerca e lui non mi carica i dati perché mi dà i dati mobili sono disattivati bene quindi non posso andare in internet non mi funziona in nessun modo internet come si fa ad attivare vado a tirare giù la tendina quindi dall'alto verso il basso e vedete quel simbolo con la doppia freccia che fa una freccia in su una freccia in giù quella bisogna attivarlo benissimo e questa è la prima cosa da vedere perché non va la connessione internet un'altra cosa adesso vedete che c'è 4g plus quindi in teoria la connessione dovrebbe essere attiva quindi io vado a cercare espertone espertone e ancora la connessione non funziona ma come mai non funziona perché manca l'apn che cos'è l'apn l'apn è un acronimo del nome access point name ovvero nome di punto di accesso in sostanza l'apn o un nome punto di accesso o access point name è una configurazione che permette al proprio smartphone di connettersi ad internet tramite il proprio operatore quindi può essere wind può essere very mobile può essere 3 può essere iliad eccetera 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 quindi ad ogni operatore corrisponde un apn in questo caso qui noi abbiamo wind o che sia very mobile è la stessa identica cosa perché hanno lo stesso apn solo in questo caso ma se ho team iliad o eccetera ognuno dovete trovare il vostro apn e lo cercate in internet che lo trovate di sicuro come faccio andare a cambiarlo vado sempre sulla tendina vado in ok vado su questo impostazioni vado su connessioni reti mobili profili vedete che io adesso avevo messo il profilo di prova ho messo il nome di apm espertone e lui non si connetteva adesso vado a scegliere internet quindi clicco qua vedete che l'apn io ho messo internet.it perché è l'apn della wind ed è quello giusto infatti adesso io vado a selezionare questo torno indietro sulla ricerca di google e vedo che faccio espertone ed eccolo qua vedete che mi trova bene un'altra cosa che può essere che non si connette mio telefono è il credito residuo nel caso in cui il credito è inferiore a un euro o anche sotto zero il mio smartphone non si connette io ho la promozione attiva ed ho una ricaricabile normalissima se il credito è inferiore o uguale a zero non si connette quindi le cose a controllare sono prima di tutto il tastino connessione dati il credito residuo e l'apn se non funziona ancora ci può essere un altro motivo se avete una scheda che fino a quel momento là non l'avete mai usata per internet può esserci un blocco di connessione dati di solito lo si attiva alle persone anziane o quelle persone che hanno degli smartphone che però non usano internet solo per chiamate allora per andare a pagare dei sovrapprezzi vengono bloccate questi sono i quattro motivi per cui non si attiva se non funziona ancora se qualche altro problema è lì da far vedere lo smartphone bene signori se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale che è sempre gratuito e attivate il tasto delle notifiche grazie a tutti e arrivederci